Go! Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, faccio questo lavoro da qualche anno ormai e ogni tanto mi diletto a inventare qualche nuova ricetta. Per questa competizione ho pensato di fare un drink pestato, fresco, estivo con la menta, il melone. Abbiamo una base di Absolute Citron e Absolute Vodka Blue. Del lime, dello zucchero, menta, visto che nella precedente edizione mi è andata male facendo il drink un coppetta perché il mio flair era troppo estremo, allora ho deciso di placare del tutto. Ma il classico è stato ieri però. Eh lo so, lo so, però ieri non potevo avere un impegno, allora mi sono dedicato oggi. Adesso ne ho cibo. Come l'hai chiamato il drink? Fresh. Potremmo utilizzarlo anche alla sera prima di andare a letto e a partire. Melone. Che colora, diverte e rinfresca. Speriamo che sia buono perché è da stamattina che è fuori dal frigo. Noi abbiamo fatto il possibile. Allora, poi c'è un premix. Un premix di cosa? Un premix di concentrato a base di melone fatto dalla, di si può dire. E niente, melone fresco sullato e tutto quanto concentrato nello squeezer. Un'oncia di absolute cedron e un'oncia di absolute blu. Una mescolanza, un poco poco. Un'oncia di dolore. Un'oncia di dolore. Che vuole spingere il mandor? Un'oncia di dolore. Un'oncia di dolore. Un'oncia di dolore. Vabbè, se c'era Paolo Barone anche oggi ero più contento. Però, vabbè. Andavo a contentare. Oggi intorno ai qua hanno deciso di non accendere il condizionatore perché volevano risparmiare ma faremo a meno, faremo a meno, due cannucce perché così il green finisce prima e si riesce a degustare meglio, garnish, come garnish abbiamo un fantastico rametto di menta fresca ancora non avvizzito, ho recuperato il banco qualche minuto fa un minuto Puga si sta avvizzendo scappeggiano ragazzi io dico sempre che non bisogna mai avere fretta grazie grazie grazie